ecco il link al mio canale twitch e alla mia pagina instagram per seguire gli aggiornamenti buongiorno a tutti benvenuti a questo nuovo video con le serie classificate perché purtroppo non è capitato fuori il come cacchio si chiama non è uscito il ah non posso mettere quelle che ho creato io vabbè questo mi aprirà in due perché ha 84 miliardi di vittorie una roba del genere non è lega combat perché tipo finita la stagione quindi deve ancora ricominciare ma quando uscirà sto video avrà già ricominciato una nuova stagione porca la puttanaccia grazie mille proprio iniziamo tranquillamente e bellamente così e va là tiriamo due spari per fortuna che ci stiamo ricordando come si fanno qua you are lucky boy perché non mi ricordo le puttana eva dico ma giustamente questo gioca così no vi prego ditemi che questo è un sogno è un incubo sta letteralmente giocando così vabbè questo qua ovviamente ci sono tutti i testimoni che salterà fuori che porterò ovviamente su youtube perché è una roba del zen davvero è incredibile andiamo a vedere le mosse giustamente perché se giochiamo contro queste bellissime persone pure la fatality metti che megavida chi salta fuori il miracolo mamma mia che bello capisco che c'ha tutta questa vittoria se si mette a sfammare i colpi ovviamente aspetta sempre il mio passo falso per poter attuare la cacchio del combo vaffanculo mamma mia quanto è bello giocare online ai videogiochi picchiaduro è molto divertente soprattutto andare contro queste belle persone e vai mamma mia quanto è forte questo con kitana dammi la grazia su via e infatti me la dà bravissimo sei il più forte di tutti sei il migliore complimenti o è un'altra volta che salta la puttana fatality da mierda mai rotto lì cojoni non dovrebbe tornarmi la fatality becca questo round 1 pareggiato mai donare la grazia al terminator in realtà il buon arnold voleva dire mi sta ridendo il buco di culo in francese ovviamente bisogna dirlo in francese queste cose bisogna far capire esattamente le persone un round l'ho portato a casa perché tu non mi devi donare la grazia ma soltanto un rompimento dei cojoni incredibile sei bravo a fare quelle due mosse sei davvero fantastico spaventoso bravissimo ma insomma non è tanto stato fantastico anche perché questo terminator aveva qualche piccolo bug di skynet e non è andata bene sfortunato io ad aver incontrato un grandioso giocatore come te selezionavo un nuovo combattente no iniziamo e continuiamo con terminator bravo sei fenomenale il migliore di tutti davvero non mi sembrava proprio vero di incontrare uno forte come te wow fai delle mosse spettacolari complimenti sei il migliore mi metto a spammare pure io i golpi allora eh li mortacci tei perché se spanni te spammo pure io guarda quanto è bravo questo giocatore sei fenomenale il migliore dei migliori scriverò proprio il tuo nome che tu sei il migliore fantastico è divertente fare questi scontri contro gente che si merita davvero di vincere perché è davvero bravissima comunque diciamo tentiamo di fare roba qua anche se se la vedo un attimino dura ecco perché ovviamente io la papablo vorrei averla all'ultimo tentativo perché così almeno riesco a fargli tanto danno e niente ragazzi spero che questo schifo di video vi sia piaciuto noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video spero aspetto magari di fare la lega combat così almeno spero di evitare di beccare questa gente di non capitare proprio nello stesso posto spazio temporale con questo schifo di persone quindi io non posso spammare i colpi devi spammarli solo te ma bravo e comunque ci godo lo stesso che ce l'ho fatta a sbloccare a fare il terzo il secondo round ovviamente contro queste bellissime persone bisogna arrivare all'ultimo round dopo mamma mia quanto mi piacerebbe sei proprio bravissimo eh proprio bravissimo è davvero uno ah io vi mando un messaggio scusate e adesso vi mandiamo un bel messaggio you are the best Mortal Kombat 11 player in the world perché veramente bisogna ringraziare queste persone quando le incontri perché se sono i migliori giocatori al mondo lo devono sapere sei il migliore al mondo e niente torniamo al menu online mamma mia che bello affrontare queste persone adesso vediamo se magari mi risponde o niente e noi ci vediamo alla prossima e aspetto che uscirà una nuova stagione della Lega Kombat così almeno sblocco un qualcosina e ovviamente spero di non beccare sti stronzi che fanno grandi combo una dietro all'altra e non spammano i colpi e vai noi ci vediamo alla prossima battaglia ciao ciao